MULTIPLEXER NMEA a cui possiamo accedere per esempio da un pc oppure da un tablet oppure da uno smartphone via cavo usb oppure anche tramite wifi perché questo che è il modello di punta crea anche una rete wifi e quindi tutti i dispositivi che ho a bordo dal pc al tablet allo smartphone potranno collegarsi e leggere i dati degli strumenti di bordo via wifi quindi poi su uno di questi tablet o pc posso caricare un software opencpn per esempio è uno di quelli che avevo già recensito sul blog della vela ed è l'innegabile vantaggio di essere gratuito ma ce ne sono anche molti altri tipo maxi per dirne uno dei più utilizzati che è a pagamento ma è il top sul mercato credo attualmente oppure ci sono anche delle app per iphone per smartphone android eccetera che possono essere anche installate gratuitamente in certi casi oppure a costi veramente bassi su questi dispositivi mobili questo ovviamente mi da un grosso vantaggio quello di poter progettare il mio sistema degli strumenti di bordo evitando di acquistare un plotter dedicato che sappiamo tutti hanno dei costi esagerati come tutto quello che riguarda la nautica costa sempre un po' troppo diciamoci la verità quindi evito di comprarmi il plotter della Raymarino o quello della Garmin o che ne so io e risparmio 1500 euro per modo di dire e mi acquisto in realtà questo qui che costa anche questo ha un suo costo perché questo qui che è il modello con il wifi eccetera costa un po' più di 300 euro 320 se non ricordo male ovviamente sempre con lo sconto della convenzione del negozio eco.com ma comunque non è un prezzo popolare però se penso al risparmio che posso avere evitando di acquistare un monitor dedicato beh benvenga insomma un altro utilizzo molto interessante ed utile che si può ottenere con questo multiplexer è quello di poter installare uno o più gps di backup a bordo dando la priorità ad uno dei due ora l'installazione di questo multiplexer è molto semplice in quanto richiede solo il collegamento di quattro cavetti però quello a cui dobbiamo stare molto attenti e realizzare preventivamente è la progettazione dell'impianto quindi dobbiamo avere ben chiaro che cosa vogliamo ottenere e quindi stabilire come connettere i cavi dove connetterli e soprattutto se ci sono delle impostazioni particolari da realizzare sulle porte allora in questo schema io ho cercato di riassumere quello di cui ho bisogno io cioè sostanzialmente io ho un bus sea torque della Raymarine che è questo a cui sono collegati tutti gli strumenti della Raymarine quindi il vento, il gps, il log e tanti altri e da un'altra parte allo stesso bus è collegato anche il chart plotter E80 sempre Raymarine quello che io voglio fare è prelevare i dati in formato NMEA dall'IS, dal VHF di SC ed eventualmente da un gps di backup che qui ho chiamato gps2 quindi questi tre strumenti li collegherò alle porte input 1, input 2 e input 3 del mio multiplexer e configurerò il multiplexer stesso in modo tale che l'out 1 vada via sempre cavetto NMEA al pilota automatico sempre Raymarine che prende normalmente il suo input dal bus sea torque ma in questo modo io posso anche fare in modo di pilotare il pilota stesso scusate il bisticcio di parole da un eventuale software di navigazione che dovesse utilizzare al posto del chart plotter e alla fine tutti i dati che saranno stati raccolti dal multiplexer voglio che mi vadano anche in uscita sul chart plotter attraverso la porta NMEA input del chart plotter stesso in questo modo io farò sì che i dati di IS, VHF e gps2 eventualmente possano arrivare non solo ai pc o ai tablet o agli smartphone che sono collegati mediante queste porte ma anche al chart plotter E80 ha le due porte tramite wifi io potrò collegare dei tablet o personal computer o degli smartphone e attraverso il cavo USB un altro portatile o computer non dotato di wifi ecco una volta chiarite le idee e studiato un po' a tavolino come devono essere fatti i collegamenti installare il tutto è una cosa veramente semplice che richiede solamente un cacciavitino e un po' di pazienza per scovare i fili giusti nell'impianto ok una volta fatte le connessioni ho aperto dal cd di programma di configurazione miniplex configuration e adesso boh cerco di un po' di la prima volta anch'io quindi seleziono la porta facciamo porta tcp host ci va l'indirizzo IP che è 10.001 quando schiaccio 10.001 ecco che si connette subito al volo bene a questo punto andiamo a vedere come sono settate adesso le porte d'ingresso e le porte di uscita allora la porta numero 1 in ingresso che è questa qui dove c'è il mouse è impostata a 4800 bit al secondo invece io devo impostarla a 38.400 perchè l'AIS è collegato su questa porta e questa porta qui quindi deve essere impostata alla velocità corrispondente 38.400 invece per l'input 2 su cui è collegato il VHF e l'input 3 su cui ora non ci ha collegato niente ma in futuro ci sarà un GPS di backup lasciamo 4800 la porta 4 la porta 4 la porta 4 dovrebbe essere impostata per il C-talk eccolo qua C-talk quindi ok impostato la porta 4 per il C-talk ed ecco che infatti da quando l'ho impostata C-talk si può vedere qua che cominciano ad arrivare le sentenze cioè quindi stiamo ricevendo dati dal C-talk infatti ho acceso gli strumenti, il GPS, il vento e tutto quindi in effetti quelli lì sono i dati che arrivano benissimo allora la porta OUT2 è già configurata a 38.4 la porta OUT2 vi ricordo che dal diagramma che vi avevo fatto vedere prima è quella che va verso il charplotter E80 della Raymarine quindi mi va bene a 38.4 attenzione perché se avete l'E80 come ce l'ho io dovete andare nella configurazione dell'E80 e cambiare il default di velocità della porta NMEA da 4.800 a 38.4 bene, terminate queste configurazioni di base ho provato ad accendere il tablet dove avevo preventivamente installato iRegatta che è un programma che ho scaricato gratuitamente e vediamo un po' cosa succede allora dovrò andare nella configurazione immagino configurazione devo andare vediamo un po' eccolo qua a cambiare l'indirizzo IP ovviamente devo mettere quello giusto che era 10.001 ok e la porta è giusta la 10.110 come c'è scritto qua quindi vediamo ecco funziona e ecco che i dati stanno arrivando stanno arrivando sul tablet e funziona fantastico beh vabbè sono fermo quindi l'unica cosa che può avere un senso è la velocità del vento sei nodi ora invece proviamo con OpenCPN che è un software gratuito open source provo ad andare nelle impostazioni connection add connection ecco posso scegliere tra serial e network serial ovviamente se ho un cavo se ho il multiplexer connesso al pc tramite cavo usb mentre invece a me interessa andare senza fili quindi scelgo network qua posso impostare il protocollo tcp o udp scegliamo udp che è meglio metto l'indirizzo che è il mio solito 10.0.0.1 la porta mi ha già messo la 10.110 che è quella standard dell'endemea i dati stanno arrivando possiamo anche vedere ecco qua dove siamo e come vedete prende anche i dati dell'AIS queste due sono due barche che sono qua nel porto nonostante tutte le dati ancora nonostante nonostante ma nonostante